Il mio lavoro base è inventare prodotti rompendo il paradigma di un prodotto di un servizio quindi innovandolo parecchio. La creatività è la capacità di creare prodotti e oggetti a 360 gradi. Innovare vuol dire dare profittabilità alla creatività cioè far sì che l'idea diventi qualcosa nel business che renda profitto. Sostanzialmente tre. Una, imparare a rompere il paradigma come ha fatto Cirque du Soleil che ha innovato completamente il circo senza animali creando un format televisivo. Due, lavorando sostanzialmente sui paradossi cioè cercando le cose assurde all'interno di un prodotto o di un servizio concentrandosi sulle grandezze inversamente proporzionali. È un ottimo stimolo per innovare. Esempio, mettere 8000 persone in uno spazio dove ce ne stanno 500. Apparentemente è impossibile però magari a turno è possibile farlo nell'arco di una giornata. L'innovazione è molta fatica, è molta disciplina. Bisogna smentire un luogo comune. L'innovazione è l'1% come dice Edison di Inspiration, cioè tutto quello che è il momento creativo in cui ci immaginiamo delle cose. Il 99% è metodo, disciplina, applicazione, project management, statistica, intelligence. È molto, è molto, è molto sudore. Secondo me è più innovativa l'anomania perché mi incuriosisce di più. Il paradigma è uno stereotipo, quindi è una cosa a cui sempre siamo abituati e che sostanzialmente ci stimola poco. Ci viviamo dentro, ci siamo immersi e ci abituiamo tutti i canti. Siamo a Milano e c'è molto traffico, è un paradigma, lo sappiamo tutti per arrivare qua. La creatività vera è sempre nelle periferie, è all'orlo dell'ordine e del caos, non è mai nei centri delle cose, è sempre nelle filiali, è sempre dove c'è il mercato, è sempre dal cliente, non è nella casa madre. L'anomalia in azienda potrebbe essere, secondo me, far sì che le idee nascano dal basso. Lo spiego con un altro piccolo climb, questa piccola clessidra che come vedete misura il tempo, dal basso in alto, che è apparentemente qualcosa di non logico. La uso per spiegare un concetto base, che è la creatività e le idee viene dal basso. La musica come modello di gestione intelligente ed efficace dell'improvvisazione, perché oggi l'azienda non può avere piani da qua a vent'anni, deve saper gestire il breve e il medio termine con intelligenza. Il jazz è la musica e ne è una metafora più interessante. La musica classica è la gestione dei talenti in un ordine rigoroso, rigido e metodologico, pur con altissima espressività. Il jazz invece è la gestione della complessità quotidiana. Cos'è la complessità? È questo gomitolo, è riuscire a rendere questo gomitolo più semplice, più efficace. Il jazz è questo.